Noi da anni operiamo nel settore dell'illuminazione decorativa e natalizia con un certo appeal, quindi per noi questa occasione della fila di Francoforte diventa una sorta di meeting in place per incontrare fornitori stabili, eventualmente ricercare nuove soluzioni, nuovi prodotti o varianti sul tema che possono rendere migliori le proposizioni dell'anno, incontriamo clienti, incontriamo i nostri agenti e poi abbiamo anche uno sguardo, un general overlook, se mi permettete l'inglesismo, su quello che sono le tendenze del settore, perché sono rappresentate qua le più grandi aziende del pianeta che operano con grande professionalità in tutto quello che può essere l'illuminazione festiva, decorativa e natalizia. Che occhio hanno qui in Francoforte, in questa fiera per il mercato italiano? Cosa ne pensano? Come pensano che siamo messi? Pensano che non siamo messi molto bene, nel senso che a farra da padrone in questo caso siamo nel padiglione di tutti i fornitori cinesi, giù ci sono delle realtà europee diverse dall'Italia e gli italiani possiamo contare meramente due aziende che hanno una dimensione europea. Parlano di noi come un paese così un po' sempre che cerca di arrabattarsi, ma che sicuramente ha la possibilità di essere il numero uno, chi vuole vendere in Italia sa che deve avere il prodotto più bello, il prodotto più intelligente, il prodotto più elegante, perché sanno che noi siamo molto molto pretenziosi. Sicuramente è noto che la situazione economica è tale che talvolta all'interno di un paniere di beni che si vanno poi a acquistare, si fa un po' di economia sulla luce decorativa, questo è vero. Com'è andato questo inverno? C'erano più o meno luci del solito? Ci sono date meno luci, chi ha fatto lavori di grande calibro le ha fatte più belle e più efficaci e soprattutto in un'ottica di risparmio energetico. sicuramente credo che la bilancia della vendita del prodotto casalingo, domestico per la famiglia ha avuto un crollo non da poco e poi c'è stato un sovrapporsi di players del tutto inaspettata, il prodotto quando è molto semplice può essere imitato, può essere importato, vi sono poi addirittura realtà cinesi come questi grandi market che arrivano e sono assolutamente competitivissimi. Ecco, chiariamo una volta questo, si tratta di prodotti sicuri, si tratta di prodotti che non fanno decollare la bolletta in maniera allarmante? Allora, due temi sono, la sicurezza è d'obbligo, d'obbligo perché non c'è assolutamente nulla di più pericoloso che di una catena di luci natalizie, perché? Perché può essere toccata da chiunque, sta nelle case ma come anche sta nelle installazioni professionali, ma sempre deve essere costruita in regola d'arte, le regole si sono fatte sempre più davvero severe in questo senso e si è eliminata una parte di competitor, importatore dell'ultima ora che non possono garantire il prodotto. Per quanto riguarda invece la bolletta energetica, non solo per il led utilizzato qua, ma in generale diciamo che questa nuova sorgente di luce ha completamente stravolto i canoni del passato, quindi parliamo delle catene normali, per esempio questa che è la più vecchia delle catene del pianeta, cioè la catena a 20 luci connettibile, adesso fatta a led, costruita con le lampadine a led passa da 100 watt a qualcosa come 12 watt di consumo, quindi stiamo parlando di un decimo rispetto al percento, non parliamo poi della durata dei prodotti a led se costruiti secondo i crismi che hanno una durata davvero diversa rispetto alle lampade incandescenti, è una questione proprio fisica, prima era una luce fisica e questa era una luce elettronica. Questo è il momento per la fiera di presentare quello che succederà nel Natale del 2014 e quindi intanto vorrei sapere, poi ne vedremo, quali sono le novità interessanti che potremo appena ai nostri balcorsi. Allora, l'evoluzione del prodotto è costante, noi siamo alla ricerca di soluzioni per il professionista, per l'installatore, di grande effetto scenografico e di strabiliante semplicità di utilizzo, quindi si lavora sulla composizione delle catene o dei soggetti, al tempo stesso si lavora sulla loro capacità di essere interconnessi e di poter essere interconnessi coprendo anche lunghissime distanze grazie all'uso di componenti che permettono, e anche grazie all'uso dei LED, di connettere insieme moltissimi moduli e coprire grandissime superfici. Novità ce ne sono diverse, ci sono LED nuovi che hanno due colori all'interno, sei colori all'interno dei controller IC costruiti all'interno del singolo punto luce, poi controller remoti che permettono di gestire giochi lucidi alla distanza e poi invece un enorme, davvero credo, uso delle sorgenti a batteria, il LED ci permette di fare anche questo, quindi adesso dobbiamo dare un vestito, un vestito che sia sempre più di look e di piacevole aspetto per il mercato italiano, sono certo che verranno invase le nostre case da una quantità di prodotti alimentati a batteria che prima erano impensabili. Ok, e Vimex in questo contesto che ruolo si propone? Beh, Vimex come sempre è partner di tanti distributori, insomma dell'industria dell'elettrica e elettrotecnica italiana, ha sviluppato negli anni, partendo così da un programma modesto, la parte dedicata al materiale natalizio. Noi ci proponiamo come sempre come partner dinamico per tutti i nostri clienti con novità costanti, avremo dal nostro catalogo già molto ampio evoluzioni sul tema, divagazioni sul tema, quindi qualche cosa un po' vezzosa e poi importeremo delle novità interessanti che poi possiamo magari dare a vedere un attimo. panoramica bravissima di un concetto nuovo, un foglio di policarbonato ripiegato su se stesso con un sottile filo di led, non invasivo, strabiliantemente elegante e che dà una possibilità grazie alla superficie riflettente di questo materiale di avere una luce che non si sa dove sia, non vedo la lampada, vedo solo delle grandi colonne illuminate. Quello che ci permette di fare adesso la tecnologia che riduce le led ha raggiunto è di costruire catene così leggere, così luminose e addirittura senza il controller, quindi priva di necessità di costruire filtri, controller MC, con un led che da solo, una volta inserito un piccolo controller IC nel suo corpo, cambia da solo il colore. Davvero con un costo limitato permettiamo una gamma e un ventaglio di colori che non è mai stato possibile pensare prima. Un'altra meravigliosa proposta che porteremo sul mercato è un prodotto con più funzioni, abbiamo un albero fibro ottica, definiamolo cicciotto, un po' ricco, innessati dei led luminosissimi con una stelli metacrilato che diffonde, che sta dentro a un vaso che può essere utilizzato in mille modi, tirando via il pinetto, questo vaso rimane solo un contenitore, è alimentato a batteria, è prodotto con materiali riciclati, ha un'autonomia di quasi 7 giorni con solamente 3 pile stilo AA e ha un controller remoto RGB che ci permette di cambiare il colore. Parlavamo di tecnologia nuova e di soluzioni nuove, questa prodotta in collaborazione con uno dei nostri migliori fornitori, è una soluzione che probabilmente potrà fare una differenza sul mercato, non abbiamo più necessità di avere controller costosi, remoti, DMX, bensì una singola catena con un controller ingegnerizzato, nascosto, segreto, con un brevetto esclusivo che permette di avere sequenze di colore prima impensabili. Il botto del genere può trovare una collocazione per installazioni professionali gigantesche, grazie alla solita e già aumentata capacità della connettibilità pressoché infinita, ma anche in un ambito domestico, con sicura soddisfazione di tutti quelli che avranno modo di godere di questa luce meravigliosa che li illumina. Questo è un esempio costruito da un artigiano italiano, di un meraviglioso rosone, ancora costruito con il vecchio sistema della sezione in legno montata su telaio, il porta lampade in serie con i colori della nostra bandiera, è credo la migliore manifestazione di quanto meravigliosa possa essere una lampadina costruita con le lampadine a led. Qua abbiamo la dimostrazione di come, ritorno a dire, il led abbia rivoluzionato il panorama dell'illuminazione decorativa. Queste sono le lampadine delle serie, vengono costruite a 12-14 volt, questi sono i colori brillanti, meravigliosamente fedeli che possiamo rendere. Abbiamo lampadine 14 da utilizzare in serie e lampadine al piano di sotto e 27 da utilizzare invece in struttura parallelo, in sostituzione delle lampade di incandescenza che sono state praticamente bandite dal panorama, quindi tutti quelli che hanno illuminato per anni i loro casi, i loro tetti con le lampadine 27 tradizionali, sono sicuramente soddisfatti, avranno lampadine più economiche, più durevoli, eco-friendly e con una luminosità, un colore che non possiamo che dire siano meravigliosi. È straordinaria la rivisitazione di tutte le forme classiche del Natale, con la combinazione di materiali innovativi e di serie a LED. Passiamo dal foglio di plexigas inciso a laser con inseriti LED con illuminazione frontale a estrusi di metacrilato, parliamo sempre di stelle, comete e alberi e fiocchi di neve. Passiamo a strutture cave con LED che illumina di fondente, che può essere multiplo, passiamo dalle palle dell'albero di forma classica e arriviamo alle cose più semplici.